Sessione, è un'aria qui Ehi, non è Vai via, va via Piano, va piano a rio Adun? Guarda, mi scordo. Adun te. Dove vedi un schietto? Fabio! Dove vedi un schietto? Aspetta qui! Vai! E poi schiva? Dove devo andare? Vado lungo. Vado di qua? Sì, vieni la porta. Ah! Ah! Davanti l'altro! Ah! 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 Ah!